arriva il rinvio a giudizio, è giusto che rimanga al suo posto? Beh, allora, noi di Forza Italia siamo garantisti con tutti e per tutti, quindi non è che lo sei per chi ti è amico politicamente e non lo sei per chi ti è avversario. E quindi la Costituzione ci insegna, e i casi di giustizia in Italia ce li insegnano alla grande, perché insomma, persone che si sono fatte 30 anni di galera poi si dichiarate innocenti, quindi c'è di tutto e di più, ahimè, insomma i magistrati sbagliano, pagano i cittadini, i magistrati no, ma questa è una digressione, però il punto è che bisogna essere garantisti e quindi fino al terzo grado di giudizio la Costituzione ci dice che una persona è innocente. Quindi per quanto riguarda Forza Italia noi difendiamo una persona perché appunto ha indagato, non vuol dire affatto condannato, ha rinviato giudizio, non vuol dire affatto condannato, anzi di solito nove volte su dieci vuol dire assolto, fra l'altro, dopodiché è chiaro che sarà la Presidente del Consiglio, perché Daniela Santanchè è espressione della sua parte politica, quindi fratella d'Italia, deve essere la Presidente del Consiglio a valutare insieme a Daniela Santanchè quali scelte prendere, perché quella è una questione politica che attiene fratella d'Italia. Se io avesse un problema, mi confronto con Antonio Italiani e ascolto quello che dice. Sì, non stiamo parlando. Grazie.